Sono in pace dentro di me, è una cosa molto bella, nel senso che proprio sono centrata, mi sento centrata, ma sto bene, sto bene, sono molto centrata, molto allineata al flusso, non so, forse così è più facile, però è bello, molto bello, mi piace molto e mi ricarica moltissimo, mi dà molta energia.